bella ragazzi siamo qui con questo terzo episodio di penumbra che non mi va proprio di farlo proprio no non mi va eravamo arrivati qua che come un cazzone avevo letto diceva che ci stavano i graffi boh io graffi non ne leggo vedi come si dice la lavagnetta è tutta graffiata che cazzo a un certo punto oddio che cazzo mi hai segnato questo scriverà solo che è scritto che è scritto che crista è scritto scusate note le note no l'entrata è chiusa c'è in poche parole dovrei trovare un'altra entrata lo so un bel po di tempo che non faccio video questo non so ancora come si fa ma non si premeva prima ah ecco non si può risolvere il fatto sì però un attimo solo minchia se è lento controlli sensibilità del mouse vediamo così già un'altra cosa questo di solito ci vogliono 300 persone per alzare queste cose forza 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 olé penso ti voglio dare un nome avvicinati 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 ancora avvicinati avvicinati a fanculo non così ok maria maria la sedia come cazzo no non voglio la luce ti r x va beh ma fanculo maria questo guardate che potenza oh che cazzo qua dirò si no 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 ti prego già corridoi porca troia corridoi c'è nessuno che cos'è no 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 si può chiudere la porta si chiudi 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 rocco in qua rocco 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 questo che sei alcol cazzo ti puoi obbligare ti puoi pure obbligare in questo gioco no era un'illusione vabbè dai cassetto 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 che cazzo li fa fare i cassetti se sono vuoti oh registratore non ha niente all'interno sto cosa arancione oh cazzo che cazzo è vai youtube bar ma fanculo come cazzo lo levo sto coso fa niente il video verrà lo stesso con sto coso ah ma è un salvataggio allora ci sono i salvataggi qui cazzo lancio ok oh che cos'è quella non mi piace oh è vero ci sono i cassonetti e cosa sei lì ti ho visto ti ho visto ti ho visto cosa sei batterie ma non ce l'ho una pila ecco l'home flare e la cassetta quanto pare non dovrò andare a cercare che cosa mi dici che palle la devo cliccare i put the cassette into the player ho messo la cassetta nel registratore vai codice codice C, imprigionato, osservare... Nooo! The Nutabar Raffanculo will be myself their waste I am the last remaining member of the elevated at this facility and so it falls upon me to ensure that Sino protocol is not compromised for that reason, I record here and the only way I have discovered to neutralize the final brain the species of the man No, 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 no Non è qui, non è qui, non è qui Chiudi, chiudi! Mantieni chiuso! Era la cassetta? Vaffanculo! Ma io non voglio uscire Cioè in poche parole ha detto che lui sta cercando... ha registrato questa... la sua voce e sta dicendo che sta cercando di distruggere questo virus Questa porta Chiusa Che cazzo hai da scrivere? I need... Devo cercare un'altra via per entrare in questa stanza chiusa Chiudi? Chiudi? Ok Sangue Sangue Cristo sangue Non mi piace Per niente No, 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 sentire una porta No, no, no Apriti 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 Questo? A mano Open with bar hands Cioè lo dovrei rompere Quindi Cosa devo prendere per romperlo? Un sasso? Oh Sasso Non mi prende per il culo Cazzo è veramente così? Quindi noches No, 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 no No, 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 no Chiudi, 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 chiudi no, 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 no Ti prego, ti prego Ti prego, sali Non spossare il tuo amico NONONO Chi è che spinge la porta? Chiuditi no 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 gioco fai il bravo Maria aiuta i due scatoli che non avranno mai un nome qui niente niente questo Cristo scatolo dai questo niente nessuna chiave questo non si può aprire all'incontrario no qua c'è questo e una siringa no 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 nasconditi come si fa scendi 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 cazzo giù 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 ti prego giù 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 non mi hai visto 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 dov'è 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 Oh, cazzo No, no Chiudi, chiudi, vai via No, vai via Vai via, vai via, vai via Ti prego, no, no, no No, mi hai visto No, cazzo Apri, ti porta Vaffanculo, Cristo infame Alzati Ti prego Vaffanculo Vaffanculo Sì Ah, cazzo, sto cazzo Merda, eccolo Di nuovo, di nuovo Ok, stavolta di tutto Non mi vedi Non mi vedi Non mi vedi Non mi vedi No, eccolo, eccolo, eccolo Stai qui, stai fermo Bravo, vai, fatti in giro, fatti Fatti in giro, fatti in giro Fatti in giro, fatti, stronzo Dopo, chiudi la porta e battere, mi raccomando Dove sei? Dove sei andato? Eccolo, guarda quella capocchia Sì, 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 sì Cristo Ah, corri, 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 corri Ah, corri Cazzo, corri Corricela dietro, corri Apri la porta Oh, chiudi, 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 chiudi Blocca Blocca Cazzo, blocca Vaffanculo, Maria Cazzo No, non ci torno più là Sì, se mo ti alzi pure tu pensa proprio che finisco di giocare Basta Andiamo A vedere Cazzo Cazzo C'è ancora la luce, cazzo C'è ancora la luce Chiudi questa Chiudi la porta Leva la luce, leva la luce Che cazzo fai? Forza Respira Respira, respira Respira Come cazzo si corre in questo gioco? Controlli L... Ah No Left skip Left control Si corre con mouse No Left skip, left control Che cazzo sarà? Vabbè Te ne sei anche un altro, ti prego No, è qui, è qui È qui, è qui, è qui Vado ad entrare Vattene a casa, ti prego Adesso do un morso al mio panino E mi calmo un attimo Si, si, si Il tuo Il tuo catarro Non mi interessa Che cazzo Che cazzo Che cazzo Si è andato No, 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 no Ti prego, vai via Vai via, vai via Te ne vai o no? Porca puttana Intanto salvo per sicurezza E' andato via E' andato via E' andato via Ma che mi stai dicendo? Oh, ha aperto la porta Ma questa non è la stanza dove ho iniziato Che cazzo mi stai dicendo? Che cazzo mi stai dicendo? Questa è la stanza dove ho iniziato Nel primo episodio Questo era il materasso Di Arlecchino Davvero? Andato via? Minchia Allora credo che possa abbassare così Perché non ce la faccio più Quindi Iscrivetevi al canale La prima cosa proprio che preferirei Iscrivetevi al canale A presto ci sarà la pagina La fanpage su facebook Quindi Appena ci sarà la metteranno le info E credo Che sia tutto per stasera Ciao 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 Grazie a tutti.